Ancora una volta un giornalista viene aggredito? Sì, ancora una volta, l'ennesima volta, adesso sono 4-5, non le conto neanche già più. Un certo Amadeo Lorenzo, perché a me piace fare nome e cognomi di chi è protagonista di una notizia così vile, comunque così squallida, mi lascia un po' la mano in bocca, molto deluso. Un'aggressione che avviene all'interno di un'istituzione, a Palazzo San Giorgio, nel Salone dei Lampadari, mentre stava per iniziare una conferenza stampa che parla di cultura. Insomma, questo signore... Ma questo bisognerebbe chiederlo a lui, ma glielo chiederà sicuramente il giudice in tribunale, perché domani farò la querela, per cui risponderà al giudice di questo, come mai. Io quello che posso dire è questa furia scatenata, mi ha strappato di mano il telefono, mi ha tirato un colpo in faccia, una manata, uno schiaffo, mi ha rotto anche il labbro, poi ha cercato con un treppiedi quello che utilizziamo per le telecamere di non contento di venire a colpirmi, ha tentato di colpirmi con quello, poi alcuni colleghi giornalisti, Andrea Ripepi, Salvatore Rato, che erano lì presenti, l'hanno frenato, altrimenti questo sarebbe andato anche oltre. Ecco, io vorrei... Questo, ripeto, sarà oggetto di domanda in tribunale. Io ero lì a fare il mio mestiere, non si capisce bene quale fosse il suo in quel contesto di conferenza stampa, e anche questo è un problema. Però la cosa che voglio sottolineare è questa, che questo signore, Lorenzo Amadeo, che non si preoccupa del fatto che è in una sede istituzionale, e qua faccio un appello al questore, a Raffaele Grassi, o comunque a chi ne ha la competenza, questi signori non dovrebbero più, signori come Lorenzo Amadeo, che sfoggiano questa violenza senza motivo alcuno, contro un giornalista in questo caso, addirittura aggredendo, picchiando e facendo la qualunque, non dovrebbe più entrare in un palazzo istituzionale. Quindi mi rivolgo al questore, Raffaele Grassi, se ne ha la competenza, o comunque a chi ne ha la competenza, che questo signore venga allontanato assolutamente, perché davvero è pericoloso, lo ha dimostrato.